Un fatto ingrescioso accaduto al sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, alcuni lati entrano nella casa materna mettendo a soccuattro un po' di tutto. La notte è stata comunicata dal sindaco attraverso un suo annuncio sui social di Facebook. Sono entrati nella casa, afferma il sindaco della mia famiglia, hanno distrutto tutto quello che hanno potuto, hanno provato a portare via oggetti e decorazioni e alla fine sono scappati con quello che sono riusciti a mettersi in tasca. Nella giornata di oggi, continuare la sindaco Brandara, ho presentato formale denuncia contro i gnoti e ai carabinieri, riponendo la massima fiducia nello Stato perché si possa venire a capo di questa vicenda e mi possa essere restituito quanto rubato. Sono oggetti di enorme valore sentimentale, ovviamente ricordi per me di chi non c'è più in vita, so che chiunque abbia subito un atto come questo potrà capire cosa provo in questo momento. Voglio però lanciare, continua il sindaco di Naro, Brandara, anche un appello ai responsabili, so per certo che non ne ricaverebbe nulla dalla vendita, restituitevi in forma anonima tutto e soprattutto ve lo dico da sorella, cambiate strada, cambiate vita, scegliete per voi stessi un futuro diverso da quello che al momento state praticando. Numerosi i messaggi di sostegno verso il sindaco Brandara per quanto accaduto, ricordiamo che recentemente l'onorevole Brandara aveva effettuato un rimpasso al governo della città di Naro inserendo alcuni nomi nuovi come assessore che l'aiuteranno nella guida della città fino al termine del suo mandato. Grazie. Grazie.